Il Movimento 5 Stelle continua la sua crescita, abbiamo 10 nuovi sindaci che dimostreranno sul campo di essere dalla parte dei cittadini. Quello che è evidente a tutti è la sconfitta pesantissima di Renzi e del suo Partito Democratico. Noi da oggi lavoreremo per portare a casa il nostro reddito di cittadinanza e soprattutto per contrastare i vitalizi che la maggioranza e il Governo non vogliono abolire. Che errori sono stati fatti?